Lo dà! Rigore! 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 Caccio di rigore netto! E poi mi chiedi se io non voglio il VAR? Io il VAR lo voglio oggi! Anche negli spogliatoi! Anche negli spogliatoi voglio il VAR! Allora torniamo da Tiziano, rivediamo ancora una volta... Con le mani, le braccia davanti a corte! Gioca a pallavolo! Sembra un colpo da pallavolo! Un bagger! Non ci sono dubbi su questo! E' l'interista bastoni! Guarda che roba! Ingenuo, braccia larghe, calcio di rigore! Dovrebbe essere Chessi il rigorista! Sì, Chessi è rigorista! C'è Chessi che sta scendendo i guain dalla tribuna! Allora c'è Chessi che mette il pallone sul dischetto mentre il Parma protesta! E' un momento delicato! Non fare battute di spirito perché ha fatto un cosa che c'è eh! Ma dai che ti ho dato un rigore! Ti ho dato un rigore netto! Che c'era! Ingenuo! Molto ingenuo! Perché io sono obiettivo! Qui il quarto uomo spiega qualcosa ad Aversa che evidentemente non è convinto! Però vuol dire che stanno facendo una polemica sciocca? Perché stanno dicendo ma nessuno ha protestato! Eh lo che vuol dire se nessuno ha protestato! Perché uno deve protestare per forza! Si stanno aprendo una carriera da opinionisti poi dopo! Frank! 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 sì che 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 sì 2-1 2-1 2-1 io saluto il mio fratello di latte Fabio Bailati ciao Fabioli e allora e allora e allora Frank che sì che sì che sì che sì un regalo la ribalta la ribalta il Milan guarda così si tirano i rigori, Ecoin dalla tribuna ha preso punti. Con freddezza, ha guardato il portiere che si buttava sulla destra, lui l'ha messa sulla sua sinistra, bello come il sole. Portiere si è tolto, portiere si è tolto. La ribaltata in Milan, la ribaltata. Dopo glielo spieghiamo anche quelli, perché adesso questi che arrivano da Torino, sono un po' confusi, è l'aria, anche gli opinionisti, adesso ho messo insieme, vategli vedere lui. Ma avete detto la stessa la classifica. Ha aspettato che si tuffasi, è tuffato e poi l'ha messo all'altra parte. Vai Tiziano, sei contento? Però è ancora lunga. E ti vedo un bello ringazzito. Che sì, che sì, che sì. E ti vedo un bello ringazzito. Che sì, che sì, che sì. È ancora lunga.